Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Ci siamo lasciati qualche settimana fa con un video dedicato alla scelta della mia nuova chitarra. Per chi non ha visto il video lo trova qui. Intanto ringrazio tutti quelli che hanno lasciato un commento a quel video indicando la preferenza della chitarra. Vi avevo proposto quattro modelli stile Les Paul della Hurley Benton, una marca di chitarre venduta in Germania. Queste chitarre mi hanno incuriosito perché hanno un costo veramente basso ma secondo me è una qualità superiore alla loro fascia di prezzo. Quindi detto questo non ci resta che andare a scoprire il modello acquistato. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche per ricevere tutti gli aggiornamenti dei nuovi video. lasciate un commento se il video vi è piaciuto, se la chitarra vi è piaciuta e andiamo a spacchettare la chitarra. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come avete visto la chitarra è meravigliosa, sicuramente ha bisogno di alcune regolazioni, ad esempio l'action è un po' alta e cambierò sicuramente le corde, ma farò altri video dedicati a questa chitarra soprattutto per farvela ascoltare e per darvi la possibilità di valutare il suo suono. Per ora vi saluto, vi ringrazio per aver partecipato a questo mio nuovo acquisto e ci vediamo presto con tanti altri video e tanta musica. Ciao!